Il trofeo Coni è come una piccola Olimpiade italiana. Si svolge per i ragazzi da 10 a 14 anni. Per qualificarti bisogna fare il miglior punteggio e poi fare gli scontri diretti con altre società. È bello vedere i giovani, lo spirito sportivo che hanno, combattivo, per farli crescere nel modo migliore. Sicuramente da piccolo trovi dei coetani con cui giocare sano e divertirti. Cadere credo sia fondamentale per poi rialzarsi e andare avanti e inseguire un obiettivo che può essere importantissimo oppure l'importante è che sia importante per te. Secondo me è molto più bello divertirsi. Io spero di arrivare alle nazionali. Io sono buona da tutto e da grande spero di diventare un grandissimo triatleta per fare magari anche l'Ironman. Vorrei arrivare alle Olimpiadi.